Un tour sulla peninsula di Valdez, un giro sulla peninsula di Valdez, e questo è una salina, la salina grande, eccola qua, una specie di salina, un lago salato, c'è un lago salato, c'è un lago salato, c'è un piccolo aperitivo su la catama l'anno prossimo. E' unicamente sempre migliore da un po' di nulla, ma se c'è l'argentino, l'orizzonte è molto lungo, c'è della terra qua, c'è della terra, l'orizzonte è lontanissimo, vedete che è proprio lontano, e che effettivamente le ultime frontiere sono queste. Ok, e dunque questa è la salina piccola, la salina chica, con le pecore che non sono quelle di quel bastardo di Venetton, devono essere le pecore di qualcun altro, stiamo tranquilli, e dunque questa è l'altro salino qua, è un salino petit, e le brevi là, ce ne sono le brevi di Venetton, che hanno tranquilli, ma no, ce ne sono le brevi qui, quindi non ditemi che il video è sciapo, non mi dite che è insipido. E' unicamente sempre migliore da un po' di nulla, ma se c'è l'argentino, c'è ancora l'orizzonte, c'è della terra qua, c'è della terra, c'è della terra, l'orizzonte è lontanissimo, vedete che è proprio lontano, e che effettivamente le ultime frontiere sono queste.